Buona serata da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio, situazione al momento di traffico su strade e autostrade della nostra regione, rallentamenti in A1 tra il bivio con planare Firenze Norda 11 e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Ci sono mezzi in lento movimento ancora in A1 tra Valdarno e Arezzo direzione Roma. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, due chilometri code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli Est in direzione Firenze. E tornando in A1 code ancora dopo un incidente tra Firenze in frunità incisa Reggello in direzione di Roma. In A1 ricordo per consentire lavori di installazione del New Jersey lunedì 10 martedì 11 orario 22.6 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Buon viaggio.